48 anni di Piateda fa irruzione nella caserma carabinieri di Ponte in Valtellina e minaccia un militare puntandogli una calibro 22 alla Tempia. Gli era stata ritirata la patente poche ore prima. Arrestato. Per l'assessore regionale alla montagna Massimo Sertori, Valtellina e Valchiavenna arriveranno pronte all'appuntamento del 2026. Bisogna coinvolgere l'intera provincia. Inaugurazione del tracciato prevista per primavera, completata l'installazione della segnaletica. 30 km di percorso in totale, 10 sulla sponda aerobica e 16 su quella retica. Oggi presso la Fondazione Foglianini di Sondrio incontro dedicato alla viticoltura biologica e dal corretto utilizzo dei fitosanitari in vigna, una nuova coscienza del consumatore. Un saluto ai telespettatori di TSN, nuovo appuntamento con l'informazione del Tg di Telesondrio News. Apriamo il telegiornale di oggi andando a Ponte in Valtellina dove un 48enne residente a Pieteda nella serata di ieri ha fatto irruzione nella locale caserma dei Carabinieri e qui puntando una pistola calibro 22 alla tempia di uno dei militari ha minacciato di ucciderlo. Dopo una breve colluttazione l'uomo è stato disarmato ed arrestato. L'arma aveva il colpo in canna pronto ad essere esploso. Ne parliamo nel prossimo servizio. Oltre al colpo già in canna per cui pronto a far fuoco aveva con sé altri 91 colpi. Non sappiamo se avesse intenzione di utilizzarli sul momento ma comunque li aveva con sé. Ponte in Valtellina, un normale controllo di routine condotto dai Carabinieri della locale caserma i quali intorno alle 15.30 di ieri notano due uomini entrambi pregiudicati e conosciuti alle forze dell'ordine intenti a parlare nelle vicinanze di un'auto, una Subaru grigia con targa svizzera. La stessa auto poco dopo viene nuovamente intercettata dai militari dell'arma con a bordo i due notati poco prima. I Carabinieri decidono di sottoporre il conducente ad un controllo trovandolo positivo all'alcol test e con un tasso alcolemico pari a 1,80 grammi per litro. Scatta così il ritiro della patente ed il sequestro del veicolo che viene trainato con l'ausilio di un carroattrezzi presso l'abitazione del fermato, un frontaliere residente a Piateda. Nulla lascia presupporre quello che di lì a poco si tradurrà nell'epilogo di una vicenda che avrebbe potuto avere risvolti ben più drammatici. Poche ore più tardi è infatti lo stesso uomo, PG, le sue iniziali 48 anni e del quale non forniamo il nome completo in quanto sono ancora in corso le indagini preliminari, con un fare apparentemente tranquillo a presentarsi presso la caserma dei Carabinieri del Paese eretico. Quanto accade è il colonnello Emanuele Di Cuceis, comandante provinciale dell'arma, a raccontarlo ai nostri microfoni. I Carabinieri gli hanno aperto e l'hanno fatto entrare. La persona era assolutamente tranquilla, almeno apparentemente tranquilla. Appena è entrato in caserma però ha estratto dalla tasca una pistola, una calibro 22 e poi dopo abbiamo scoperto avere anche il colpo già in canna, quindi pronto a far fuoco. L'ha puntata alla testa del Carabiniere e l'ha minacciato. Il militare per fortuna è stato, ha mantenuto il sangue freddo, è stato reattivo e è riuscito subito a bloccare la mano di questa persona e a spostare la pistola dalla sua testa. Ne è nata una colluttazione, gli altri militari sono prontamente intervenuti, hanno messo in sicurezza l'area e hanno proceduto a immobilizzarlo e a disarmarlo ovviamente c'è stata una colluttazione con i nostri carabinieri. Quattro i carabinieri presenti in caserma al momento dell'irruzione, il comandante assieme ad altri tre militari. Due di essi, rimasti levemente contusi nella colluttazione, hanno riportato ferite guaribili in 15 e 10 giorni. Ben poca cosa rispetto al rischio potenziale di un atto che si sarebbe potuto tradurre in tragedia. In una delle tasche dello stesso fermato, che non ha riportato alcuna ferita durante il corpo a corpo, risoltosi nel giro di pochi istanti, sono stati rinvenuti ben 91 colpi calibro 22. Una tipologia particolare di proiettile che tende a frammentarsi una volta raggiunto l'obiettivo, per cui particolarmente pericolosi. L'uomo, con una serie di precedenti penali accumulati nel tempo, ma che ultimamente non aveva dato adito a particolari comportamenti, al momento del fermo aveva un tasso alcolemico pari a 2,4 grammi per litro, ben superiore a quello registrato poche ore prima al momento del primo controllo. Il fermato è stato nella stessa serata di ieri condotto nel carcere di Sondrio, dove attualmente detenuto in attesa della convalida dell'arresto, su disposizione del PM di turno dottoressa Chiara Costagliola. Le accuse sono di tentato omicidio, lesioni, minacce e percosse aggravate, oltre a porto abusivo di arma da fuoco. Ed è ricoverato presso il reparto di neurochirurgia dell'ospedale Morelli di Sondalo, l'operaio quarantenne di Livigno, travolto da una cabina dell'impianto di risalita a Tagliede, poco dopo le 9 di questa mattina. L'uomo, impegnato nella manutenzione degli impianti di innevamento, non si è reso conto dell'arrivo della cabinovia ed è stato violentemente colpito al capo. Sul luogo dell'accaduto sono prontamente giunti i soccorsi, compresa l'eliambulanza che ha poi trasferito a Sondalo il quarantenne, che sembrerebbe non versare in pericolo di vita, per quanto si sia resa necessario un intervento chirurgico per la rimozione di un ematoma cerebrale. Le sue condizioni rimangono comunque in prognosi riservate. Le indagini su quanto accaduto sono affidate ai carabinieri del comando di Tirano. Un tavolo di lavoro in regione per coordinare e sfruttare al meglio i giochi del 2026, ma anche l'intenzione di coinvolgere tutta la provincia di Sondrio e non solamente le località che ospiteranno direttamente le gare. L'assessore regionale Massimo Sertori è sicuro che la Valtellina e la Valchiavenna arriveranno pronte allo storico appuntamento. Ce ne parla Paolo Croce. Olimpiadi, un treno che passa una volta sola. Olimpiadi, un'occasione da non perdere. Olimpiadi, una sfida da vincere. In questi mesi il ritornello è sempre questo, neanche fosse una canzone del Festival di Sanremo. Ora c'è da tradurre le buone intenzioni in fatti concreti. Per questo, Regione Lombardia ha avviato un tavolo tecnico per la promozione dei territori interessati dalle Olimpiadi Invernali del 2026, come spiega l'assessore della Regione Lombardia agli enti locali, montagna e piccoli comuni, Massimo Sertori. Una straordinaria occasione, Olimpiadi Milano-Cortina, ma in realtà la Valtellina è assolutamente protagonista. Ricordo che quasi il 50% delle medaglie che verranno consegnate in occasione delle Olimpiadi arrivano proprio dalle località vartellinesi. Quindi un coinvolgimento diretto della Alta Valtellina, ma con una delibera regionale abbiamo stabilito di fare un piano socio-economico per quello che sarà lo sviluppo futuro sull'asse Milano-Lario-Valtellina, ovviamente comprendendo anche la Valtellina, quindi Valtellina nell'eccezione più generale del termine, perché crediamo che se è vero come risulta dai dati che abbiamo in possesso là dove le Olimpiadi ci sono già state, che ci sarà la possibilità di utilizzare questo straordinario evento per arrivare al dopo le Olimpiadi, addirittura con un raddoppio e anche di più delle presenze turistiche sui territori che ospitano le Olimpiadi, ecco che allora ci dobbiamo organizzare per tempo e pensare a quale sarà lo sviluppo futuro socio-economico della Valtellina e dell'asse che dicevo Milano-Lario-Valtellina. Quindi dobbiamo intercettare la straordinaria opportunità che ci dà questo evento internazionale, ma vedere anche poi come trasformare il nostro territorio in un territorio che sia in grado di accogliere le straordinarietà che un evento del genere può portare. Tra l'altro molto importante è il fatto di riuscire a coinvolgere tutte le località della provincia di Sondro, Valtellina e Val Chiavenna, anche quelle che magari non sono direttamente in primo piano interessate alle gare, coinvolte alle gare. Sì, questo deve essere chiaro. Le location dove si svolgeranno le gare sono Bormio e Livigno, lo sappiamo, la cosa è nota, quindi Bormio attraverso la pista a Stelvio ospiterà lo sci alpino, Livigno, Snowboard, Freestyle e poi ci saranno le Pari Olimpiadi in Val di Dentro. Detto questo, però, è chiaro che un evento di questa portata non potrà essere sviluppato solo ed esclusivamente nelle location dove si svolgeranno le gare, ma sarà coinvolto tutto il territorio della provincia di Sondro, compreso la Val Chiavenna, e non sarà neppure sufficiente. Pensate solo alle squadre che arriveranno da tutto il mondo e che dovranno allenarsi, quindi è chiaro e evidente che ci sarà un coinvolgimento anche di tutte le altre località. Un treno che passa solo una volta, dicevamo, con Sertori. La provincia di Sondro farà quindi di tutto per non perdere questa coincidenza. Dopo i mondiali juniores che lo scorso fine settimana a Bormio hanno catalizzato l'interesse di atleti e appassionati, è in corso di svolgimento da oggi a domenica la tappa di Dresda della Coppa del Mondo di Short Track. Quella in Germania è la quinta prova del circuito e fa seguito agli europei, dove l'Italia ha raccolto ottimi risultati. Assente Arianna Fontana, la pattuglia azzurra è guidata da Martina Valcepina, che vuole confermare i tanti risultati positivi di questa stagione. E andiamo a Morbegno. Il sentiero Città Alpina è ormai realtà. Posizionata la segnaletica, mentre per il taglio del nastro bisognerà attendere la primavera. Un percorso inclusivo e accessibile della lunghezza di 30 chilometri, che fa dar accordo alle due sponde montuose, quella orobica e quella retica. Il servizio è di Simone Belletti. Un volano turistico, un percorso naturalistico fruibile da tutti. Il progetto Sentiero Morbegno Città Alpina, promosso dalla sezione del Club Alpino Italiano di Morbegno e dall'amministrazione comunale, intende valorizzare gli aspetti ambientali e storico-culturali del territorio, unendo le due sponde montuose, le Alpi Retiche e Orobie. Un servizio in onore del titolo di Città Alpina dell'Anno, conferito a Morbegno nel marzo 2019. Un tracciato che, per gran parte, ripercorre le strade e le vie di sentieri già definiti. Già posizionati tra dicembre e gennaio i numerosi cartelli metallici nei vari punti strategici del percorso. L'inaugurazione vera e propria è prevista per primavera. Dieci chilometri sono sulle Orobie e 16 chilometri sulle retiche. Un sentiero che è vero che ha un grande sviluppo, ma che potrà essere percorso a tappe e a tappe da tutti, dalla famiglia con bambini all'atleta che lo potrà percorrere in corsa. Il percorso parte dalla stazione di Morbegno per raggiungere il centro storico, da dove prende il via il sentiero escursionistico vero e proprio, precisamente da Piazza Tre Fontane. Si sale la via Priula per poi percorrere il tratto robico, raggiungendo l'area di sosta del Pitalone, poi la discesa verso Arzo, passando dai Tartusei fino a tornare nella città del Bitto al santuario dell'Assunta. Da qui la continuazione per la sponda retica, toccando Paniga, Desco, la cima della Colmen, punto più alto raggiunto, Dazio, Porcido, Cerido, Cermeledo, Campovico, fino al Ponte di Ganda e infine alla risalita per fare ritorno in Piazza Tre Fontane. Ciò che ci rende particolarmente orgogliosi di questo sentiero è che è un sentiero inclusivo, perché è un sentiero percorribile anche dalle persone con ridotta mobilità e infatti troverete segnavia che indicano la possibilità di percorrenza con Joelet. Le aspettative sono alte in chiave turistica. Il goal è dare valore al territorio alpino circostante, ricco di storia e memoria, cercando di tramandarlo alle generazioni future. L'aspetto interessante dal punto di vista turistico è proprio quello che questo sentiero si collega con il sentiero del Viandante che termina proprio a Morbegno al Palazzo Malacrida e si interseca con il sentiero Valtellina e quindi possiamo dire che Morbegno è veramente un crocevia di sentieri turistici. Proseguono gli incontri alla Fondazione Foianini dedicati alla viticoltura biologica e al corretto utilizzo dei fitosanitari in vigna. Oggi il consumatore vuole essere più informato e consapevole. Il mercato bio è in crescita anche in Valtellina e Valchiavenna. La parola agli esperti. Vediamo. Il tema del biologico è entrato nel quotidiano in ragione di una sempre maggiore sensibilità a una sala alimentazione. Il comparto vitivinicolo anche in Valtellina e Valchiavenna non si sottrae a questa sfida trovando nella Fondazione Foianini un valido supporto nella qualificazione, sviluppo e crescita dell'agricoltura provinciale. Non ultimi i corsi di formazione e aggiornamento come quello dedicato alla viticoltura biologica e ai trattamenti fitosanitari del vigneto. Siamo all'interno del progetto Simbioval che è un progetto che riguarda la promozione di quello che è l'agricoltura biologica a 360 gradi un progetto Interreg quindi Italia-Svizzera dove la comunità montana di Sondrio è il capofila di questo progetto. Noi come Fondazione Foianini abbiamo organizzato appunto una serie di incontri proprio per andare incontro alle aziende e fare quindi un'attività di formazione rivolta a loro. Il tema della mattinata era proprio appunto quello della viticoltura biologica. La difesa fitosanitaria è sempre importante quello che emerge nella gestione bio piuttosto che convenzionale e che diciamo così i proiettili e le possibilità a nostra disposizione sono molto meno rispetto a una gestione convenzionale per cui ci vuole estrema professionalità ci vuole tempestività e conoscenza proprio perché bisogna essere tempestivi e utilizzare al meglio quelle poche possibilità e armi che noi abbiamo nella difesa biologica. Tra gli interventi della giornata la fondazione Foglianini quello di Tito Caffi ricercatore all'Università Cattolica Sacro Cuore di Piacenza grazie a lui abbiamo cercato di capire perché cresce la voglia di mangiare bio cosa cerca il consumatore tipo e quanto una maggior consapevolezza di cosa e come mangiamo non aiuti anche a preservare il pianeta. Senz'altro c'è una maggior consapevolezza e quindi una maggior attenzione un maggior interesse dal punto di vista del consumatore che chiede prodotto più sano che abbia una caratterizzazione territoriale c'è più voglia dei viticoltori dei produttori di caratterizzare il proprio prodotto di raccontare una storia non solo di vendere un prodotto e quindi è interesse comune andare verso questo tipo di approccio. Oggi noi stiamo crescendo sempre di più come popolazione mondiale dobbiamo aumentare la produzione di cibo di prodotti di qualità di cibo di qualità e chiaramente lo dobbiamo fare migliorando le tecniche di produzione riducendo quelle che sono le perdite di prodotto migliorando la difesa e direi che nel 2020 anno che la FAO e le Nazioni Unite hanno dedicato come anno internazionale alla protezione delle piante anche in questo caso la giornata di oggi viene a pennello su come divulgare mostrare l'importanza della salute delle piante per un ambiente più sano un prodotto più sano ma anche un effetto di mitigazione di quello che sono gli effetti negativi dei cambiamenti climatici. Saperne dunque di più da parte dei consumatori perché al termine biologico non resti una moda così come l'uso dei fitosanitari da parte anche dei piccoli e piccolissimi produttori sia il più possibile consapevole. Si terrà domenica prossima la dodicesima edizione del trofeo Gino Berniga un classico dello sci alpinismo la manifestazione nata nel 2009 è organizzata da Polisportiva Albosaggia ed Associazione Gino e Massimo congiuntamente alla famiglia Berniga appuntamento in Val d'Arigna per questo evento Fisi al quale parteciperanno le categorie ragazzi allievi, cadetti, junior, senior, master sia maschile che femminile alla gara è abbinato un raduno non competitivo aperto a tutti la partenza dei concorrenti è fissata intorno alle ore 9 in località Foppe Val d'Arigna il lavoro dei giovani le prospettive future i numeri della cassa integrazione in Valtellina e Val Chiavenna che registrano un aumento sono questi i temi affrontati nella rubrica del venerdì con Mirko D'Alzadelli segretario CISL Lombardia vediamo benvenuti alla rubrica del venerdì l'ospite di oggi è Mirko D'Alzadelli questa è la sua scheda nato a Chiavenna 45 anni fa professione sindacalista in carico segretario CISL Lombardia hobby musica il peggior difetto sarebbe per Maloso fra i pregi li passa presto e non tiene rancore è tutto giusto? tutto giusto benissimo allora questa vorrebbe essere una rubrica con domande scomode con posizioni scomode purtroppo l'argomento che andiamo ad affrontare oggi è già scomodo di suo per cui non c'è bisogno di infierire più di tanto i dati che riguardano la cassa integrazione Lombardia sono sicuramente negativi e la provincia di Sondrio purtroppo non è esente sì la provincia di Sondrio non è esente e per la prima volta i dati della provincia segnano dopo anni una tendenza negativa nel senso che c'è un cambiamento che riguarda l'ultimo trimestre 2019 dove c'è un aumento significativo delle ore di cassa integrazione ordinaria un più 100% quindi vuol dire un raddoppio sostanzialmente di quella che è la tendenza che abbiamo registrato non solo nel 2019 ma anche negli anni precedenti la Lombardia segna un più 71% con delle situazioni ancora più allarmanti rispetto a quelle della provincia di Sondrio ma diciamo che la tendenza provincia ci preoccupa e ci preoccupa soprattutto perché il nostro territorio ha una forte vocazione all'esportazione ed è l'esportazione che tende a segnare i dati più negativi Poi Mirko c'è anche da ricordare il tema del precariato giovanile sicuramente per il lavoro legato al futuro dei nostri ragazzi bisognerebbe fare molto di più Sì diciamo che la nostra provincia risente molto da una forte attrattività che hanno soprattutto i territori a forte vocazione manifatturiera in particolare le aree metropolitane tant'è che sono tanti i giovani valtellinesi e valchiavennaschi che dopo aver studiato a Milano decidono poi di trasferirsi e costruire un progetto un'idea di vita fuori dalla nostra valle non solo a Milano ma c'è anche una forte tendenza di emigrazione verso altri paesi io ho incontrato valtellinesi valchiavennaschi a Zurigo li ho incontrati in viaggi anche in altre zone dell'Europa e c'è una tendenza forte appunto a costruire una vita al di fuori della valle questo chiaramente porta un forte impoverimento del nostro tessuto socio-economico le olimpiadi Milano-Cortina sembrano un libro ancora tutto da scrivere in realtà sono domani dopo domani le olimpiadi Milano-Cortina-Valtellina sono domani ci siamo già confrontati più volte anche a regione Lombardia è un appuntamento unico una grandissima opportunità per rilanciare un'intera economia un'intera vocazione di un intero settore quello turistico ma legato anche agli altri settori un'opportunità da non perdere sono treni che passano poche volte nella vita di un contesto socio-economico come il nostro e questa è una occasione irrepetibile che dovremmo sfruttare al meglio così come Milano ha saputo ben sfruttare Expo 2015 ecco guardiamo Milano nel saper guardare a quell'appuntamento come un elemento di grande sfida ma di grande opportunità e diamo adesso uno sguardo all'anteprima dell'aperitivo il talk show on the road condotto dal nostro Fausto Molinari venerdì sera siamo pronti per andare in onda su TSN con l'aperitivo come vedete alle mie spalle adesso scende l'operatore inquadra anche a me c'è il carnevale a Sondrio quindi facciamo domande su carnevale i vestiti di carnevale andiamo ti ricordi una maschera di quando eri piccolo o l'ultima che hai messo magari l'hai messa l'ultima che hai messo non mi ricordo non ti la ricordi l'ultima no però mi ricordo ma strano che non ti ricordi l'ultima ti ricordi quelle vecchie quelle vecchie sì allora quelle più belle erano quelle di Arlecchino tipo quelle classiche quelle classiche sono le migliori mi sapete dire che colore hai i capelli no davvero che colore è quella questo è indaco come il cielo di oggi tecnicamente a me l'ho insegnato che l'indaco è il colore del cielo posso chiederti di un costume di carnevale sto serio da piccola hai messo un costume però così mi sento un imbecile da piccola da piccola hai messo un costume ti ricordi il costume di carnevale da piccola l'unico che mi ricordo ero vestita da befana vi ricordate un costume che avete messo da giovani da piccola volevo sempre vestirmi da tarzan da pirata sì mai da femmina odiavo i vestiti delle fatine quindi sempre da ci sei sempre vestita così però sì sempre da maschio da maschiaccio costume boh non mi vestivo quasi mai tranne una volta che mi ricordo mi sono vestita da farfalla mi vestivo non mi ricordo non mi sono mai vestito credo a parte una volta da indiano d'america ma mi hanno obbligato ti hanno obbligato i miei genitori ma non si fa eh lo so però ero proprio piccolo avevo avuto tipo tre anni clown come si veste un clown visto che fai parte del quartetto ma ne abbiamo quattro esempi cioè così come sei dei rari almeno il naso rosso sai che clown ha il naso rosso ma non serve il clown si nasce mi sono sbattuto la porta addosso non mi ricordo qua mi sta come hai fatto a sbatterti non lo so ero strada di fretta ho fatto tipo pam mi è arrivata la porta addosso ho pianto tipo per cinque minuti vedi sei rivestito da clown con il naso finto a quest'ora non avreste il taglio è vero avrei dovuto mettere la pallina ed ora il consueto appuntamento con il bollettino nivo meteorologico di Arpa Lombardia sulle montagne lombarde la situazione del pericolo valanghe è molto variegata la debole perturbazione di martedì ha portato precipitazioni piuttosto modeste tuttavia il vento molto forte in quota ha determinato la formazione di accumuli e lastroni molto importanti soprattutto sui settori retici questi rimangono staccabili ancora al sovraccarico di un singolo escursionista sui settori orobici dove le precipitazioni sono state più modeste questi sono meno precari in particolare sui settori orobici e prealpi le superfici del mato nevoso sono molto dure e levigate e c'è una presenza di lamine ghiacciate pertanto bisogna considerarvi di stare molto attenti nell'escursione e questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale appuntamento alle prossime edizioni del Tg e del settimanale di Telesondrio News buon fine settimana al quadrifoglio a Sondrio il punto di riferimento per l'abbigliamento classico e casual maschile al quadrifoglio potrai trovare una vasta scelta di abiti camiceria maglieria calzature e accessori uomo delle migliori marche al quadrifoglio l'abbigliamento maschile di qualità al prezzo giusto ci trovi a Sondrio in via Caimi 72 telefono 0342 51 49 71 per te donna che cerchi nella moda uno stile davvero personale c'è New Probabile Donna la boutique di Sondrio in via Mazzini 15 dove puoi creare il tuo look al di fuori delle tendenze e correnti dilaganti New Probabile Donna Tanni è il punto di riferimento per chi ama una moda semplice con un tocco di glamour un'eleganza decisamente sofisticata con la passione per la ricerca del dettaglio e della qualità New Probabile Donna abbigliamento borse accessori e calzature a Sondrio in via Mazzini 15 immaginari l'idea che non avevi in testa a Sondrio in via Bonfadini 9 barra zona stazione orario continuato dalle 9 alle 19 giovedì aperto fino alle 21 appuntamenti allo 0342 03 12 35